Ciao a tutti, sono Nadia De Lago e oggi vi presento una delle piste più lunghe delle Dolomiti che si chiama la Longia ed è una delle otto piste del The Legendary 8. La Longia è lunga 10 chilometri con un dislivello di 1.273 metri e una pendenza media del 18%. Questa pista è molto particolare perché passa rocce geologicamente interessanti con ampie e lunghe curve attraverso il bosco e prosegue attraverso un canyon naturale. Eccoci qua, siamo arrivati in fondo alla pista La Longia e devo dire che le gambe si fanno un po' sentire però mi sono divertita un sacco e spero che lo fate anche voi. Ciao a presto! Ciao a presto! Ciao a presto!